Anche qui ha del poco che si vedono delle abitazioni, non è che siano costruite tipo quelle serre, sono abitazioni delle case tipo quelle terrestri, è una metropoli questa di Marte, sono abitazioni costruite forse a un primo piano, un piano terra, l'immagine non è molto definita del satellite. Però qui si vede un ponte che attraversano a parte, insomma è un burrone, un burrone come il paese al canale di Marranca, l'ex canale di Marranca di Bonserratto, questa è Marte, Marte ci sono le case che ci sono nella nostra città, queste sono delle abitazioni costruite vicino a vicino al canale, ma vicino al canale però, Questo canale forse serve a che si inonda di acqua e quindi in Marziani hanno deciso di fare un canale per l'acqua, come un rio, o sotto ci sono delle case anche sotto, pare che ci sono delle case anche sotto, che non è questo non sia un rio, ci sono delle abitazioni, Io adesso cerco di ingrandire l'immagine però non mi venga, non mi viene dato bene che si disfoca un pochettino, devo entrare in questo canale, questo rio, eh, sentiamo troppo, disfoca, qui vedo un'abitazione, E' un'altra anche qui, è un rio che divide dalla parte all'altra la città di Marte, la metropoli di Marte, qui si vedono delle abitazioni simili a quelle terrestri, case, forse sono un piano terra, è un tetto, una piccola ma sardina, Grazie di averne ascoltato